Allora chiamo Antonello Rinaldi, ricordo ancora signori che questo terzo saggio di Pace Student è trasmesso in diretta a Facebook su DG7 Basilicata. Un saluto a tutti loro che ci stanno guardando, ci stanno salutando, grazie! Caro Antonello, come va? Tutto a posto? Ci siamo? Maestro qua che posiziona sempre questi microfoni? Eh infatti sì, hanno paura di tornare avanti, stanno arrivando a me, dire la cassa è spinto. Antonello, vabbè, ma lui è sempre successo, quando è arrivato Nicola, comunque con queste gambe si sentirebbe più, che si arriva a una mano. Allora, Antonello, vieni da? Venuto. Da quanto tempo ho studiato? Siete, sette mesi. Siete, non sono 17 anni, 15, sette mesi. Antonello, primo pezzo? Un bel volo degli angeli, signori Pazzer, vai Antonello! Siete, non è detto vabbè, però non sono 17 anni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.